Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Così come ogni anno il 2 novembre, recitava Totò nella livella, c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero, il 30 ottobre a Napoli è diventato il giorno per onorare Diego Armando Maradona. Il giorno del 62esimo compleanno del campione argentino, scomparso il 25 novembre del 2020, il murale in via Dedeo ai quartieri spagnoli è diventato meta di pellegrinaggio per i fedeli della chiesa maradoniana. Una folla superiore a quella del Cristo velato grida una signora dal balcone, mentre in strada un flusso ininterrotto di persone, soprattutto straniere, si reca in visita alla mecca del pallone. Ognuno l'ha da fa che sta creanz, ognuno ha datano chi stu pensiero. Un pensiero condiviso anche da ex compagni come Nando De Napoli, Gianfranco Zola e Bruno Giordano, in città per ritirare il premio nazionale per sempre Diego, giunto alla sua seconda edizione, che ieri non hanno voluto mancare nel pellegrinaggio alla piazzetta dove si trova lo storico murale. Come uomo mi ha lasciato l'umiltà che aveva e la sincerità. Lui quando pensava una cosa te lo diceva in faccia, anche se era brutta o bella. E questa è la maradona. Ci manca molto perché, ripeto, era un ragazzo buono. Ci sono tanti ricordi in campo, ma soprattutto fuori. Ho sempre detto che per me è stato più importante fuori del campo che all'interno del campo. Per cui potete capire che amicizia che ho avuto con Diego, e lo ripeto, è stato un privilegio perché è stata una persona straordinaria. A Pisa, quando mi fece indossare la sua maglia, per me fu molto importante perché comunque dovevo ancora trovare certezze, consapevolezza e quel gesto mi diede veramente un grande aiuto. Alla stazione marittima di Napoli, l'undicesimo forum del coaching ICP, Associazione Italiana dei Coach Professionisti, intitolato la città del coaching, accoglienza, diversità e integrazione. Il forum ICP rappresenta il maggiore evento nazionale che l'associazione propone ogni anno nelle principali città italiane. Laura Leone, presidente ICP, racconta la giornata partenopea. Questo stavonardo ha parlato di reciprocità nell'accoglienza. Il professor Martinez nell'esplorazione di organizzazioni che definiva esotiche per la loro unicità. Ogni organizzazione è esotica per chi non la conosce. E reciprocità, quindi facciamo sempre l'uno con l'altro anche quando non lo sappiamo. Per il coaching questo è fondamentale. Napoli, luogo sempre nuovo tra i più antichi del coaching, propone anche quest'anno l'incontro con un contesto ricco di esperienze, come sottolineano Lello Savonardo, professore della Federico II e il professor Marcello Martinez dell'Università Van Vitelli. Noi costruiamo le nostre identità nel rapporto con gli altri, nel rapporto e nelle relazioni che in qualche modo si definiscono nel contesto in cui viviamo. E quindi è molto importante non soltanto il tema del riconoscimento sociale per la nostra costruzione del sé, ma soprattutto anche per in qualche modo interagire con il mondo e capire, comprendere gli altri, i fenomeni che indaghiamo, che vogliamo approfondire. Credo che stiamo assistendo in questo convegno davvero una pluralità di prospettive che però sono accomunate tutti da questo elemento, cioè di interfacciarsi con l'altro, con le altre persone per far sviluppare un cambiamento. Io devo dire, lavoro all'università, quindi con i ragazzi, ho aule che sono numerose, quindi è difficile essere il coach individuale, però esistono dei metodi per, anziché essere noi in cattedra e proiettare delle slide, ribaltare un po' il modo di apprendimento dei ragazzi e farli partecipare. Noi la chiamiamo con un termine inglese gamification o se volete capacità di rappresentazione e di interpretazione e devo dire che quando gli stessi concetti vengono interpretati dai ragazzi emergono le loro caratteristiche comportamentali, emergono le loro potenzialità. Soddisfazione nelle parole di Gabriella Riccio, responsabile del coaching club Campania. Napoli si presta al tema che è la città del coaching. La città del coaching perché? Perché è una città dicotomica, una città molto provata, sia dalle varie conquiste, quindi dalla storia, ma anche piena d'arte. Tuttavia una città dolce amara che comunque viene guardata da un vulcano ancora attivo, sempre lì sul Chivalà, mentre tutto si svolge al tempo delle persone napoletane. Il liceo statale Alessandro Manzoni di Caserta, l'istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Olevano sul Tusciano di Marano di Napoli e l'istituto comprensivo Castaldo Nosengo di Afragula sono le tre scuole vincitrici del concorso Raccontami la disabilità, edizione 2022. Nell'aula Siani del Consiglio regionale della Campania, al centro direzionale, consegnate le targhe premio dal garante dei diritti delle persone con disabilità della regione Paolo Colombo. Far riflettere, quindi discutere, quindi sensibilizzare sul tema della disabilità perché conoscere un problema in parte è già anche risolverlo e quindi offrire queste iniziative di sensibilizzazione aiutano a formare una coscienza matura, adeguata sulla disabilità. La scuola è il momento principale per la formazione dei futuri cittadini, è il momento in cui fra l'altro si possono forse limitare se non eliminare del tutto il gap, proprio la cultura, la scuola è il momento fondamentale per l'inclusione sociale. Oggi fra l'altro presenteremo anche delle iniziative con associazioni importanti come la FISH, la FANDA e altre associazioni di disabili proprio di sensibilizzazione sulla Convenzione O1, dei diritti delle persone con disabilità, con invece Cittadinanza Attiva e TDM presenteremo un'iniziativa sulla prevenzione della salute nella scuola e invece con l'UNICEF presenteremo delle iniziative sempre nella scuola per quanto riguarda la lotta al bullismo. Il 38% purtroppo degli alunni disabili subiscono episodi di bullismo. All'iniziativa hanno partecipato 90 istituti scolastici della Campania che hanno raccontato a modo loro, in aula, scuola, il loro concetto di aggregazione, vicinanza e integrazione con le persone e i compagni di classe diversamente abili. Alla premiazione è presente anche il Presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, che ha ricordato come molto spesso siano gli studenti disabili ad essere bullizzati e ghettizzati dai loro stessi compagni di scuola o coetanei. È stata una mattinata anche di confronto perché poi da questi compiti che hanno fatto i ragazzi si è tirato fuori un dibattito, una discussione sulla inclusione e la necessità di migliorare sempre di più l'inclusione nelle nostre scuole, ma io tengo all'interno di tutta la società. Ci sono fenomeni che vanno verificati alla luce anche di ciò che succede nelle scuole, nelle famiglie e questi fenomeni la scuola ha un grosso compito, quello di avviare la discussione e soprattutto riuscire a formare i giovani del futuro ad una vera inclusione, ad un progetto di vita. L'informazione continua con Culture Coffee, la rubrica di cultura, in collaborazione con napolivillage.com La città metropolitana di Reggio Calabria ha celebrato a Pestum nell'ambito della Borsa mediterranea del turismo archeologico 2022 il cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei brunzi di Riace. In questo immaginario legame tra i luoghi mitici della Magna Grecia, Campania e Calabria si rilanciano le numerose bellezze che caratterizzano tutto il territorio di Reggio Calabria, come spiega il sindaco facente funzione della città metropolitana, Carmelo Versace. L'anno del cinquantesimo è servito probabilmente a catalizzare un'attenzione maggiore su quello che è il nostro territorio metropolitano tanto vasto, tanto importante. Non lo so se ci siamo riusciti compiutamente, so che abbiamo lanciato dei messaggi importanti che sono andati anche oltre il nostro territorio metropolitano. La sfida adesso è quella di mantenere alta l'attenzione sul nostro territorio e quindi provando ad alzare un po' l'asticella in più rispetto a quello che stiamo facendo. La Borsa di Pestum è un appuntamento importante, lo abbiamo già detto l'anno scorso quando abbiamo programmato se vogliamo un po' l'anno del cinquantesimo e oggi rilanciamo. Rilanciamo con un dossier che da qui alle prossime settimane annuncerò al nuovo ministro della cultura provando ovviamente a catalizzare non campanilisticamente l'attenzione sul mio territorio ma su due statue bronze che non appartengono al Reggio Calabria o alla città metropolitana ma che sono patrimonio dell'umanità. Il 2022 è un anno importante che celebra il cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei bronzi di Riace, simbolo del territorio e di tutta l'Italia nel mondo. Elena Trunfio, direttore del Museo e del Parco archeologico nazionale di Locri e Fabrizio Sudano, sovrintendente archeologie, belle arti e paesaggio di Reggio Calabria, ai nostri microfoni sottolineano qual è l'importanza oggi di salvaguardare la storia dell'archeologia nazionale partendo proprio dai bronzi. Noi condividiamo con la Calabria e con tutte le regioni, con la Campania e con tutte le regioni del sud della Sicilia questo grande momento culturale della Magna Grecia. Abbiamo la stessa cultura, le stesse origini e quindi anche in questo tempo contemporaneo dobbiamo ritrovarci insieme per raccontare questa straordinaria esperienza culturale che è stata la Magna Grecia che ancora oggi ha delle forti ripercussioni nella nostra cultura e nel nostro modo di vivere. 50 anni vanno celebrati come si deve, è giusto che sia celebrato l'anniversario della loro scoperta e devo dire che la sinergia tra le istituzioni, i ministeriali da un lato e territoriale dall'altro, la città metropolitana, il comune di Reggio e tutte le altre istituzioni compresa la regione Calabria fanno sicuramente sì che questo sia un anno diverso dagli altri ma che possa essere soprattutto di grande partenza e ripartenza per il turismo e per la cultura in generale. Un progetto ambizioso che punta subito a risultati vincenti. La BCC Napoli McDonald's pallavolo si presenta alla città con le sue compagini maschili e femminili. Due squadre con atleti che hanno tanta voglia di vincere, vincere con sacrificio, quel sacrificio che ha sempre contraddistinto gli atleti partenopei, così il presidente Gerardo Amato. La Napoli pallavolo è nata già da due anni, nasce nella periferia est di Napoli, Ponticelli e ha lo scopo di riportare la pallavolo a Napoli a alti livelli. Noi ci vantiamo di uno staff di tutti i giovani provenienti anche loro dalla periferia che credono nel nostro progetto e speriamo di portare Napoli più in alto possibile. La squadra nata due anni fa nella periferia est della città, Ponticelli, quest'anno si è già fatta notare per gli ottimi risultati conseguiti nelle prime partite di campionato che la vedono prima in classifica a punteggio pieno. L'obiettivo a lungo termine di questa realtà è quello di riportare la pallavolo femminile e maschile di Napoli ai massimi livelli. Questo è il pensiero del coach Angelo Colarusso. Noi siamo quest'anno focalizzati su quello che deve essere un risultato immediato, quindi abbiamo una buona squadra per poter affrontare un campionato di alto livello. Noi cerchiamo di sviluppare un gioco globale per come una serie superiore, poi dopo diciamo che dipende anche da quello che ci permettono gli avversari di fare. In allenamento proviamo di tutto e di più per rendere vivo l'allenamento, per essere competitivi contro chiunque, per trovare le soluzioni giuste nelle partite che ci metteranno in difficoltà. La Banca di Credito Cooperativo di Napoli, guidata dal Presidente Amedeo Manzo, ha deciso quest'anno di sponsorizzare il suo dalizio partenopeo. Ecco perché. Le periferie sono tutt'uno con la nostra città. Non combattiamo per l'autonomia differenziata. Noi pensiamo che Napoli sia solo una grande metropoli dove ci sono quartieri più fortunati, altrimenti, ma tutti insieme realizziamo la nostra grande partenope. Per cui sostenere un'iniziativa del genere fatta da giovani, in mezzo ai giovani e per i giovani, in un momento complicato, leggiamo guerre, leggiamo pandemie, leggiamo il triplicarsi del costo del danaro, quindi difficoltà per le imprese andare avanti, significa stendere una mano, svolgere l'inclusione e perché no, favorire la crescita di tante piccole e piccolissime imprese, artigiani, commercianti, famiglie, giovani, start-up. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.